un d'italia con lucia scardoni medaglia d'oro il titolo italiano nella sprint qui a gromo intanto parliamo della gara di oggi com'è andata lucia ma è andata bene la qualifica sono contenta comunque ho fatto praticamente lo stesso tempo di greta e sapevo di giocarmela con lei poi nelle batterie sinceramente mi sono sentita sempre meglio perché all'inizio non mi sentivo molto brillante e poi insomma in finale ho dato tutto e sono riuscita a vincere un risultato che conferma il tuo ottimo momento val di fiemme hai fatto sognare i tifosi italiani da tanto tempo non vedevamo una donna così vicina al podio ci hai sperato ah beh sicuramente poi una volta che sei lì insomma ci speri sempre anche perché ho visto anche nelle durante i quarti della semifinale che non ero distante dalle altre anzi me la potevo giocare quindi quando sono partita si non non mi aspettavo niente però un po c'è ci ho creduto come ti sei trovata sulla pista di hobert door sarà bella duretta l'anno prossimo è una pista molto impegnativa molto dura sicuramente ci sarà da lavorare e però ha fatto un ottimo lavoro ha fatto uno stadio nuovo c'era c'era anche c'era molto tifo e mi è piaciuta dai ci sarà da lavorare comunque però i risultati ottenuti quest'anno in in tecnica classica nelle sprinte tecnica classica ti danno ancora una motivazione in più hai capito che puoi arrivare lì sì sicuramente anche il riuscire ad arrivare in una finale anche se era un tour e comunque magari alcune concorrenti non sprinter non c'erano mi ha fatto comunque vedere che posso giocarmela anch'io e l'hanno dimostrato anche facendo i migliori tempi in qualifica sia lì che ho fatto il secondo tempo ma anche a Cusamo comunque in una gara di apertura dove c'erano tutte le più forti l'ultima cosa obiettivo per questo finale di stagione ci sono tante sprint in tecnica classica si adesso già settimana prossima ci sarà un'altra sprint a tecnica classica a palun poi ci sono appunto le tappe su al nord è un tour anche in in america canad america e quindi ho ancora delle possibilità per far vedere quello che valgo